Nel 1974 Berlusconi è preoccupato per la sicurezza dei suoi figli, perché in quel periodo le mafie a nord sono dedicate al sequestro di persone. Allora si rivolge a Dell'Utri. Perché? Come può aiutarlo Dell'Utri? Questo ce lo spiega il collaboratore Francesco Di Carlo. Esatto, io ero tornato dall'Inghiettezza e Stefano Bondate mi disse di accompagnarla a Milano, dove che lì dovevamo incontrare un imprenditore. Mi disse il nome, ma non sapevo chi fosse. Quindi lei a quel tempo non sapeva chi fosse Silvio Berlusconi? Sì, non l'avevo mai sentito nominare. E insieme a voi c'era l'imputato Marcello Dell'Utri? L'incontro fu organizzato da Dell'Utri. Prego, accomodatevi. Prego, da questa parte. Sì, dallo a me. Il Dottor Berlusconi tra un attimo è qui da noi. E quindi, come ci vanno a fare un alledizio a Dottor Berlusconi? Sempre bene? Bene, che ti puoi dire, amici miei. Molto bene. Stefano sta costruendo tutta una città. La chiamerà Milano 2. Robetta seria. Senti che ha fatto? Praticamente ha fatto spostare tutto un aeroporto. È perché il rumore degli aerei deprezzava il valore degli appartamenti. È forte, è bravo. Sai che si è inventato Stefano? Ha regalato un pezzo di terreno a Don Berzè. Hanno fatto l'ospedale, il San Raffaele. Così può dire che gli aerei disturban i pazienti. Te l'ho detto, ci sa fare, si sa muovere, è bravo. È un genio. È un genio, è un genio. E questa è la storia delle minacce che gli sono arrivate ai figli. Questa è una cosa brutta. Gli hanno detto addirittura che gli volevano far trovare la testa del figlio su un vassoio. Minchia pesante. Ma che siamo stati noi o i Calabrese? A me lo chiede. E allontanza. Eccomi, scusate il ritardo, però c'è il traffico. Non è una scusa, lo giuro sulla testa dei miei figli. Ma io l'osservavo che lui non aveva problemi di niente se ci chiedevano una cosa. Ma me la sveglio io se avete bisogno a Milano o... Tipo che cosa? Se avevano bisogno di risolvere qualcosa, nei vari... Se costruivano a Milano e c'era bisogno al municipio, c'era bisogno al tribunale. In qualsiasi settore lui era amico di tutti. Ce ne siamo andati. Ma visto come aveva parlato Berlusconi, Stefano Montato mi diceva Ma l'hai visto come si attereggiava, come un mafioso, tutto lui? Cosa Nostra l'avreste preso uno come Berlusconi? L'avreste mai combinato? Se nasceva da Napoli in giù, poteva essere. Ma c'era il carattere adatto? Il carattere adatto, però può andare, come si soltira, a sbattere. Perché in Cosa Nostra ci vuole molta serietà. Non avrebbe potuto fare i bunca-n-bunca. Come chiamano? Bunca-n-bunca? Bunca-n-bunca. Bunca-n-bunca. Se voi notate, c'è stato un periodo di questi due anni di bunca-n-bunca, prima con Palazzo Graziole e dopo nella Villa o Sardegna e cose. Una persona come Marcello Dell'Utri, a me non mi risulta, perché non me l'hanno presentato, ma lo volevano combinare, chissà se è combinato. Uno di Cosa Nostra non può avere un amico come di questo tipo. Ah no? No, è imbarazzante. Ah, quindi è Dell'Utri che si è imbarazzato e si è allontanato da Berlusconi, e non Berlusconi che si è imbarazzato di Dell'Utri e l'ha allontanato. No, 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 al contrario.